Un'altra vendebiata la settimana successiva, 5-2 con il Benevento, ad aprire le marcature questa volta Orati. Peraltro è un ex del Benevento, il raddoppio di Schillaci su questo lungo lancio di caccia. Schillaci si intromette tra due difensori sanniti e batte il portiere avversario. Accorciare distanza la squadra campana con Lunerti, bestia nera del Messina, l'anno prima giocava con i giallorossi, anche se le sue apparizioni furono davvero pochissime. Sul 2-1 ci pensa Napoli a sfondare il dispositivo difensivo del Benevento. Ancora Lunerti, 3-2. Il risultato che diventa rotondo con i gol ancora di Napoli, su azione di calcio d'angolo e di Schillaci. Messina su palle inattive quell'anno realizzò tantissimi gol. Grazie. 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 Grazie.